Prova di maturità della nuova feta che spugna con l'autorità il campo dei tre villaggi, superando una zero in Riccione, Fabi costretto a far fronte alle pesanti assenze di fattori, Farabigo e Stefanelli, oltre che dei giovani radici. Al centrocampo torna il titolare Matteo Sebastiani. Il Riccione si schiera con i 4-2-3-1, con Magnani, terminale offensivo. Prima occasione per il giallobru ospite al sesto minuto, Baldinini per via centrali, vince due euro di forza con Endao e allarga a sinistra per Gori, crossa la sotterra, taglia tutta la difesa e serve l'inserimento di Mamutai, che di prima calce in porta, trovando la presa di Tacchi. Azione fotocopia qualche minuto dopo, questa volta Gori allarga per Amantini, che non ci pensa su due volte, concursione dalla distanza, neutralizzata da Tacchi. Al ventirovese, ma ancora la squadra ospita, rendersi pericolosa, lancia lungo di Rinaldi, Galesi di testa sbaglia in invio e serve Baldinini al limite dell'area. L'attaccante ha preso la destra per l'inserimento dei cupi, che davanti a Tacchi, manca la concursione con il destro, favorendo infine il recupero di Casadio. Alla mezz'ora, punizione tagliata di Fraboni, Tacchi le spinge corto, ostacolato forse da un compagno, poi si supera per deviare il tiro di destra di Rinaldi dal limite dell'area. Sulli sviluppi del corner, battuto dallo stesso Fraboni, Galesi salta a braccia larghe e tocca con la mano. Il replay evidenzia proprio il tocco di mano ad opera del numero due. L'arbitro Ginai decreta il rigore, trasformato infine da Rinaldi, con Tacchi che intuisce senza poter arrivare sul pallone. Il dominio di Nuova Fetea è reso colpio evidente all'occasione per Gori al quarantesimo. Fraboni, posizione di trequartista, verticalizza a destra per l'inserimento di Cupi, l'esterno serve all'indietro Gori, il cui tiro a botta sicura trova la deviazione in corne dell'ottimo Tacchi. Nella ripresa è un altro Riccione che prende in mano il palio del gioco e prova a far valere la propria superiore fisicità. A cinquantatresimo, Amati ruba palla a Rinaldi in uscita e triangola con Cugnigni. Il lancio in aria trova Magnani, defilato solo a sinistra, ma è diagonale in crociare dell'attaccante, non spaventa Semprini e termina a lato. Casadio ci prova direttamente a calcio piazzato senza incidere. Lo stesso Magnani, al sessantaquattresimo, spreca la palla del pareggio su un lungo lancio prolungato di testa. Da Cugnigni, l'attaccante calcia di destro alto, cercando il palonetto. Sessantaquattresimo, Casadio calcia su posizione, chiamando Semprini all'uscita di pugno. Briard controlla nei pressi del limite dell'aria e ha tutto il tempo di calciare con il sinistro, chiamando Semprini alla deviazione. Cugnigni stile Magnani nella ripresa, attenta alla battuta da posizione defilata, ma nulla da fare. Il numero dieci, spaccata, riesce a servire Magnani poco dopo. Buona protezione della sfera, pallone scaricato in direzione Rizzi, ma pallone deviato in corner. Endao, protezione della sfera anche da parte sua, serve Briard che alza la mira. Inova Fete resiste con merito e con il passare dei minuti riprende nuovamente le misure all'avversario. Nel finale sale il nervosismo, all'89esimo, espulso in successione Casadio, Tacchi e Federico Baldinini. Inova Fete porta a casa una vittoria di grande valore, consolidando il secondo posto con 28 punti, a meno uno dalla capolista Real Miramare, ma soprattutto con un dato statistico importante, più 12 rispetto all'anno precedente in classifica e manca ancora una giornata per migliorare il risultato e cercare di mettere la classica stella in cima all'albero di Natale, possibilmente non in compagnia di altre.